Buongiorno, avremo una discussione soprattutto sull'Ucraina e poi sulla crisi del Medio Oriente. Il governo italiano ha mostrato e sta mostrando fermezza sulla crisi ucraina, ma ora dobbiamo essere consapevoli che gli sforzi devono andare anche alla ricerca di una soluzione politica. Non esiste l'idea che si possa risolvere il problema o solo con sanzioni o tantomeno con soluzioni militari. Quindi la fermezza è utile ad aprire il varco per una soluzione politica. Per il Medio Oriente, signor Ministro, lei pensa che l'Europa è pronta per riconoscere il Stato di Palestina? Io credo che discuteremo anche di questo, sapendo che il riconoscimento è un obiettivo nell'ambito di una politica che vuole due Stati, lo Stato di Israele nella sua sicurezza e uno Stato per il popolo palestinese. Non è un atto simbolico il riconoscimento da fare per ragioni politiche, è un obiettivo nell'ambito della strategia dei due Stati e quindi va fatto nel momento e nel modo più opportuno. Grazie.